Lazio-Bologna 1-2, la Lazio perde contro il Bologna giocando in casa, quindi nello stadio olimpico proprio oggi, 18 febbraio 2024. A segnare i gol per la Lazio nel primo tempo è stato Isaksen che la mette dentro grazie ad un bellissimo calcio potente e l'intucio. Il Bologna fa due gol a firma di Usama El Azuzzi nel primo tempo e nel secondo a firma di Joshua Zilzi che la mette dentro. Anche questo gol dobbiamo dire che è un bel gol. Le statistiche però sono infatti tutte posizioni per il Bologna rispetto al Lazio. Molto più possesso di palla, molti più passaggi, una precisione di passaggio e levemente più elevata. Le statistiche quindi premio il Bologna ha vinto. Bene, iscrivetevi al canale, rato italiano, commentateci.